Ci troviamo in via Eleonora d'Aragona dove sono già iniziati da ieri i lavori per la sistemazione dell'impianto fognario. Siamo con l'assessore comunale ai servizi a rete Carmelo Brunetto, lavori che andranno avanti ancora per alcuni giorni ma che consentiranno comunque di risolvere il problema. Assessore Brunetto è così? È così, i lavori dureranno una ventina di giorni così come ci hanno comunicato, dovranno risistemare un collettore fognario che è collessato proprio sotto la via Eleonora d'Aragona e ripristinare la condotta fognaria fino ad arrivare al primo prozzetto utile che si trova a circa 30 metri. Questo consentirà di riaprire al transito sia la via Eleonora d'Aragona che nella parte sottostante, la via Fratelli Argento? Intanto proviamo a risolvere questo problema, dopodiché capiamo che tipo di situazione c'è sotto via Eleonora d'Aragona, in considerazione del fatto che è stata svuotata dalla perdita fognaria. I tecnici ci diranno se è transitabile oppure se necessita di altri lavori di consolidamento. Per quanto riguarda le opere più importanti che sono in corso attualmente a Sciacca da parte di Girgenti Acqua, mi pare che sia questo il principale cantiere. Per il resto anche gli altri lavori di manutenzione come procedono? Devo dire che procedono tutti bene, sono sicuramente lavori di minore entità, questo è un lavoro più grosso, è un lavoro importante perché va a ripristinare quella che è una via fondamentale per il nostro centro storico. Ripristinando la via Eleonora d'Aragona avremo sicuramente una via alternativa che è anche una via di sicurezza, una via di passaggio. C'è una schiarita più in generale nei rapporti tra il comune di Girgenti Acqua che ricordiamo nei mesi scorsi, in periodi precedenti, non sono stati particolarmente sereni? Devo dire di sì perché noi bene o male tutte le segnalazioni che facciamo abbiamo delle risposte, delle risposte utili in tempi relativamente brevi. Certo loro devono fare le gare nei casi di lavori più importanti come per esempio questo avranno chiamato così come ci hanno comunicato ovviamente non siamo noi interessati in prima persona però ci hanno comunicato che hanno chiamato diverse ditte per i preventivi e dopodiché ne hanno scelto una, hanno scelto una ditta per fare questi lavori in via Eleonora d'Aragona. Devo dire che i rapporti sono buoni in questo momento e i lavori che noi chiediamo vengono effettuati. Oggi è una giornata importante per quanto riguarda le prospettive della gestione del servizio idrico, l'assemblea che è in corso ad Agrigento, lei cosa si aspetta? Mi aspetto tanto, noi andremo avanti per la strada che sin qui è stata percorsa dal Presidente Ellati, dal nostro sindaco e da tutti i sindaci. Sicuramente dobbiamo trovare una soluzione importante che sia più conveniente per i nostri cittadini.